Per essere felici bisogna sporcarsi le mani, il tema scelto quest'anno per i 12 mesi di servizio civile regionale. Sono 12 i posti disponibili messi a disposizione dalla Carita Stiocesana. Con una grande novità, il termine ultimo per presentare le iscrizioni è stato prorogato venerdì 28 giugno. Sì, c'è stata questa proroga della Regione Toscana per dar modo a più giovani possibili di poter appunto presentare le candidature nei progetti appunto che anche Caritas ha messo nel territorio. Abbiamo appunto 12 posti in alcuni ambiti operativi di servizio e i ragazzi che hanno interesse o voglia di sperimentarsi con il mondo delle povertà, con il mondo delle comunicazioni sociali, con il mondo delle disabilità, con il mondo degli anziani, con il mondo dei minori possono presentare la domanda nel nostro progetto Arezzo 2018 e Arezzo e Fiesole 2018 per appunto candidarsi a sporcarsi un po' le mani. Ecco, questa è la fase un po' così che abbiamo scelto di Papa Francesco perché ci piace questa dimensione anche operativa del servizio. I giovani toccano con mano dei luoghi di sofferenza, dei luoghi di relazione, sperimenteranno appunto dei servizi dove appunto non si sta seduti, ma si sta appunto in relazione con il vasto mondo delle persone che comunque possono vivere una situazione di disagio, di fragilità, di povertà e questo appunto interessa anche a noi di Caritas che i giovani possano affacciarsi a questo mondo per formarsi prevalentemente, per vivere un'esperienza significativa, per fare curriculum, per acquisire delle competenze, per appunto un percorso di formazione. Quindi invitiamo appunto tutti i giovani possibili dai 18 ai 29 anni di presentare la domanda nei progetti della Caritas. Come è possibile presentare la domanda? La domanda si presenta online sulla piattaforma informatica che appunto troviamo sul sito della regione toscana Giovani Si e cliccando lì appunto con la tesserina sanitaria alla mano si può presentare domanda, chiedono dei dati anagrafici, alcune notizie personali, alcune vengono chieste, alcune esplicitazioni sulle motivazioni. Poi dopo successivamente alla presentazione della domanda che deve essere corredata di curriculum vitae e di documento di carta d'identità, l'ente Caritas, in questo caso noi, chiameremo per un colloquio di selezione così chiamato in cui valuteremo un po' tutti i profili che sono comunque arrivati, le candidature e l'inizio del servizio civile per tutti coloro che saranno selezionati è previsto per il mese di settembre, nella seconda parte del mese di settembre.